Ciao a tutte, anche il video di oggi fa parte della serie legata al figurino e l'argomento che tratterò è interessante, ma prima di iniziare è molto importante che se non vi siete ancora iscritte al webinar gratuito che si terrà il 31 maggio alle ore 19 dove vi mostrerò come realizzare splendidi figurini moda diventando fashion designer lo facciate ora cliccando sul link in basso nella descrizione. Nel video precedente vi ho spiegato le differenze nella realizzazione dei figurini moda uomo e donna, quindi le diversità fisiche, le forme e gli stili che distinguono le due figure. In questo video i punti su cui ci concentreremo e quindi le differenze che andrò ad analizzare e che vi inviterò a capire e a prendere in considerazione sono gli stessi del precedente ma con un focus sul figurino dei bambini. Direi di concentrarsi come sempre su ciò che è di informe e sul perché. I bambini hanno proporzioni e dimensioni del corpo diverse dagli adulti e sicuramente questo è logico, è facile da vedere. Non ho detto nulla che non potessi capire tu stessa, ma un conto è vedere in maniera lampante, un altro conto è conoscere le regole che ci consentiranno di rappresentarle attraverso il disegno. Il trucco sta tutto lì, comprendere gli schemi che ti serviranno a sviluppare un disegno reale e autentico. Quando si parla di bambini è importante capire la fascia d'età che vogliamo andare a rappresentare, poiché i bambini cambiano ad ogni fascia e con esse cambiano anche le regole da applicare per poterne rappresentare correttamente la fisicità. Il tema della fascia d'età del bambino non ha un impatto solo sulla rappresentazione della sua fisicità ma anche nel riprodurre lo stile dell'abbigliamento e le tendenze. Facciamo qualche esempio per essere più chiari. Un bambino piccolo ancora in fascia innanzitutto avrà un aspetto diverso da un bimbo che cammina. Oltre a questo l'elemento del camminare o non camminare porterà a differenze, esigenze e abbigliamento diversi. Un bambino in fascia non camminando potrà avere un corredo di tutine, pezzo unico che comprendono la copertura dei piedini, comodissime per la mamma e per il bambino che così eviterà le calzette. Invece un bambino che cammina porterà calze e scarpette. Come vedi ogni fascia di età ha esigenze diverse. Un bambino che va a scuola sarà differente da un adolescente quindi bisognerà osservare le varie fasi di crescita sia per riprodurne il giusto figurino sia per studiarne il giusto abbigliamento. Altro elemento importante quando si progetta l'abbigliamento del bambino è quello di guardarne il lato pratico e comodo in base alla fascia di età. Comodo per il bambino, pratico per la mamma. Se parliamo di stili e tendenze queste possono variare notevolmente rispetto a quelli per adulti che hanno molti più dettagli e sono più complessi e laboriosi. Un bambino o una bambina che va alla scuola primaria vorrà mettere qualche capo che gli ricordi il papà o la mamma ma pur richiamandoci allo stesso stile converrà adeguarlo all'età del bambino. Un esempio fra tutti l'elastico in vita anziché la cintura in tessuto. Quindi torniamo sui dettagli minori rispetto a quelli dell'abbigliamento degli adulti. Fondamentale è riuscire a creare disegni pertinenti e attraenti. Quando invece il bambino si indirezzerà all'adoloscente ci avviciniamo al mondo degli adulti. Quindi occhio attento al fisico e all'abito da progettare con delle piccole diversità che dobbiamo saper cogliere per non farvi immediatamente rientrare nel mondo degli adulti. Anche le pose e le espressioni possono differire significativamente tra neonati, bambini e adolescenti. Questo è un argomento più di altri da sviluppare in profondità. Tratterò questi argomenti in modo più approfondito il 31 maggio alle ore 19 e se ancora non ti sei iscritta fallo cliccando sul link in basso nella descrizione. Ciao, arrivederci al prossimo video!